Il film tutto catanese Mauro c'ha da fare un racconto divertente sulla condizione di un giovane laureato che non trova Il lavoro per cui ha studiato Mauro ha 30 anni, due lauree e non riesce a superare il concorso per il dottorato di ricerca perché ogni volta il posto viene assegnato ad un raccomandato meno preparato di lui Così deve accontentarsi di dare ripetizioni e di vivere con i genitori che vorrebbero vederlo sistemato a tutti i costi anche con un lavoro qualsiasi Intanto la sua fidanzata, stufa della situazione, lo lascia per un altro Fin qui il film Mauro c'ha da fare, prodotto dalla 095 mm di Alessandro Marinaro e diretto da Alessandro Di Robilan, regista di film d'impegno come Giudice Ragazzino e Mar Piccolo Rispecchia la realtà dei tanti giovani laureati sui quali proprio in questi giorni si è nuovamente abbattuta l'accusa di essere bamboccioni e schizzinosi Ma questo film indipendente, tutto realizzato tra Catani e Sant'Agata di Battiati, grazie anche al contributo di amici e parenti del produttore Riesce a ribaltare il luogo comune con invenzioni, gag e personaggi realissimi eppure esilaranti Si ride nonostante si veda Mauro aggrovigliarsi in un destino che sembra condurlo alla follia con un finale spiazzante Bravissimi tutti gli attori, dal protagonista il ragusano Carlo Ferreri a Evelyn Famà Andrea Borrelli a Cettina Bonafini nel ruolo dei genitori di Mauro, a Luana Toscano ancora Massimo Leggio e Marcello Perracchio in un cameo Abbiamo fatto un film che potrebbe essere anche, si potrebbe svolgere anche in altri posti Come dire, i nostri problemi siciliani sono uguali a quelli che si hanno a Roma, a Milano e in qualsiasi altro posto dell'Italia Mauro è una sorta di palladino buffo della giustizia A Mauro dà fastidio il non riconoscimento del merito e quindi a noi è sembrata una cosa anche molto attuale La cosa più divertente è che ho avuto la fortuna, oltre di essere diretta dal regista Alessandro Di Robilant Di poter recitare accanto a lui in qualche chicca che avrete modo di vedere nel film Questa è una commedia, secondo noi, molto brillante, fatta da bravissimi attori Che hanno un solo problema, che non dipende da loro, non sono famosi Mauro c'ha da fare dopo essere stato presentato in diversi festival in Italia e all'estero E' finalmente arrivato nelle sale siciliane Dopo la prima di ieri, oggi sarà ancora da Cireale alla Margherita Mercoledì prossimo al King di Catania e giovedì 30 a Ragusa Grazie a tutti